La macchina della solidarietà entra nel vivo dell'azione. Si è svolto in comune ad Arezzo un vertice per organizzare le modalità di raccolta dei beni di prima necessità che saranno poi trasportati nei territori colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto, in particolare al campo 1 di Acqua Santa Terme. Come unico punto di raccolta è stato indicato il teatro tenda. L'appello che arriva da coloro che sono già sul posto è quello di organizzare la generosità in maniera articolata e non in maniera soltanto generosa. Quindi ci organizziamo così. Da domani, venerdì, sarà aperto dalle ore 10 alle ore 22 il teatro tenda, che sarà un luogo di raccolta per tutti i generi di prima necessità, sia alimentari che non, che ci sono stati chiesti dal campo 1, che al momento è appostato nel comune di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno e per il quale noi ci occupiamo quindi direttamente e che ospita al momento 70 famiglie. Siamo in contatto con il capocampo che appunto ci ha mandato l'elenco di ciò che serve e che aspetta, e perché così sarà, il camion che partirà da Arezzo alla volta di Acqua Santa Terme il giorno di sabato alle ore 13. Quindi alle ore 17 di sabato i primi elementi di generosità che gli aretini avranno voluto dare arriveranno già alle 70 famiglie ospitate in questo campo. E così ci muoveremo per tutto il periodo dell'emergenza, quindi aspettando direttamente dal posto ciò di cui c'è bisogno. Sono previste anche nuove partenze per quanto riguarda il personale? Sì, noi in questo momento ci muoviamo in base a quello che ci viene richiesto, quindi ci è stata richiesta la disponibilità di tecnici che sono già stati allertati ma che partiranno al momento in cui ci verrà richiesto. Dal campo di Acqua Santa Terme sono stati richiesti generi alimentari a lunga scadenza ma anche generi non alimentari come sapone, cartigenica, scottex, tovaglioli, assorbenti, dentifricio, spazzolini da denti e pannolini per bambini.